Buona giornata. Spesso capita che nella guida imbocchiamo delle rotonde. Le rotonde sono quell'esperienza che noi abbiamo nel prendere poi una direzione a seconda della meta che abbiamo. Il rischio ogni tanto lo vediamo anche nella guida è di avere persone che girano attorno alla rotonda senza mai prendere una decisione, senza mai prendere una strada. Ed è proprio questo che può anche capitare a noi, continuare a girare nella rotonda, continuare a girare su se stessi senza forse avere chiara una meta ma senza forse anche prendere soprattutto una decisione verso quella meta. Allora che questa rotonda possa essere così sciolta, questa rotonda possa essere così oltrepassata nella strada che sei chiamato a prendere. Che il Signore ti illumini e che ti benedica non per girare su se stessi ma per camminare e andare avanti. Buona decisione. Il Signore ti benedica. Il Signore ti benedica.